In Italia c'è uno scontro cognitivo in atto tra i fatti e le parole. Il governo sembra vivere in un mondo fatto di parole, di narrazione nazionalista volta a conquistare consensi ignorando la realtà. Per cui Di Maio può promettere di aver sconfitto la povertà in nome di una misura ancora inattuata come il reddito di cittadinanza, peraltro finanziato con un terzo dei fondi rispetto a quanto promesso in campagna elettorale, può promettere la nascita di un nuovo boom economico italiano mentre siamo l'unico paese europeo in recessione e farino di coda nei prospettive di crescita. Come Salvini può promettere un'Italia che finalmente conta nel mondo quando siamo completamente isolati e rilevanti, tanto che i parlamentari europei disertano il discorso del Presidente del Consiglio, non abbiamo alleati su nessun fronte sia in chiave europea che in chiave internazionale essendoci isolati completamente da tutti gli alleati occidentali riguardo al Venezuela piuttosto che nello scontro con la Francia e su tutti i principali dossier europei. Eppure sembra che gran parte dei cittadini italiani continuino a dare fiducia a questo mondo immaginario, fatto di parole ignorando i dati di fatti reali, l'economia che va male, la disoccupazione che cresce, lo spread che sale, i conti pubblici che vanno male, l'economia in recessione, è un isolamento che è il preludio di una irrilevanza crescente, in una fase cruciale in cui andranno in scadenza tutti i vertici istituzionali dell'Unione Europea che andranno rinnovati tra l'elezione europea del 26 maggio e la fine dell'anno. Una situazione in cui l'Italia rischia di pagare un prezzo altissimo a questo vivere di illusioni ignorando la realtà.